Io vengo da una generazione molto antica, con mia fila sono cinque generazioni che noi pratichiamo questo spettacolo circense, anche perché il circo è uno dei più antichi spettacoli del mondo. Il mio papà era un grande direttore del circo, ho cominciato a girare il mondo. L'Italia era un paese conosciuto al mondo come il core dell'artista, da un tendone come questo sono venuti fuori tanti tanti attori che erano famosi, che sono famosi ancora. Dal circo io ho iniziato a fare dei film, cominciando da Sandokan, da Bingo Bongo Quadriano Celentano, tanti film come Unicelli, Cunfelini. La mia generazione, il mio papà, la mia figlia, mi ha trasmesso questo amore dei animali e noi dovevamo tenerli bene e dovevamo amarli. Per noi fa parte della famiglia. Tutto questo è bello, perché per lei è un gioco. Greta c'ha più carattere di me. Io da grande farò lo spettacolo con i delfini. Mi ha imparato papà e il suo papà ha imparato il mio papà. Eh ma cambierà tante cose finché diventerà grande. Mi raccomando, tu sei un bravo. uno di per lei, mi ha imparato mobilizzando l' Sig. Meganib�